benissimo allora dovrebbe essere iniziato perfetto allora buonasera a tutti questa sera facciamo un webinar su l'oxygen advantage buteico e metodo wimov ci concentriamo sulle tecniche di respirazione e vedremo le analogie e complementarità le differenze per rispondere alcune domande pertinenti interessanti che alcuni di voi mi hanno posto negli ultimi mesi e gli ultimi anni riguardo a queste due tecniche che all'apparenza sembrano antitetiche ma che in realtà si basano su principi comuni e che sono molto complementari quindi una piccola presentazione prima di prima di iniziare allora io sono leonardo sono istruttore del metodo wimov dal 2017 istruttore oxygen advantage dal 2018 pratico quindi le due tecniche tutti i giorni insieme perché hanno una vera sinergia e sono importanti entrambi almeno per me per il mio quotidiano ho un passato da ginnasta ho fatto vari anni di ginnastica e avevo un passato da da cattivo respiratore se si può dire così in italiano respiravo molto male quindi quando ho incominciato a praticare poi yoga con fu shaolin e mi sono messo a studiare il pranayama e le tecniche di respirazione e sono arrivato al metodo wimov e all'oxygen advantage ho avuto vari benefici a livello fisico a livello atletico ma anche a livello mentale quindi una grande passione quella che mi spinge a continuare a studiare la respirazione un domenio un un ambito enorme molto vasto che ovviamente non si finirà mai di esplorare ho fatto in francese un corso masterclass su varie tecniche di respirazione ho scritto un ebook che ancora in francese ho pianificato di tradurlo in italiano e magari fare lo stesso corso che ho fatto in francia anche in italiano magari dopo l'estate quindi se siete interessati poi vi farò sapere allora durante il webinar che sarà corto alle 19 30 avrò finito di parlare facciamo insieme una q a domande risposte per rispondere alle vostre domande vi chiedo di mettere il telefono le altre cose che non utilizzate per il webinar in modo aereo così non siete disturbati e siete concentrati per 20 minuti lo dico per voi perché così siamo concentrati insieme poi se avete delle domande alla fine rispondo a tutte le domande che sono a cui so rispondere per una decina 15 minuti quindi dovremmo finire prima delle otto meno un quarto tanto grazie di esservi connessi mi fa piacere che siate interessati da questa tematica allora iniziamo sul andiamo nel vivo del soggetto oxygen advantage e wim off iniziamo con con wim off penso che sia la respirazione che conosciate di più allora wim off metodo wim off non è una tecnica di respirazione il metodo wim off ha varie componenti di cui una è la respirazione e in questa in questo pilastro del metodo respirazione ci sono varie tecniche parleremo oggi in questo webinar della tecnica di base della respirazione di wim off di wim off che è la più conosciuta e anche la più importante allora la respirazione wim off è una respirazione è una tecnica di respirazione che ha un obiettivo preciso quindi prima cosa non è una tecnica di respirazione che utilizziamo 24 ore su 24 tutti i giorni è una tecnica che si fa in un momento preciso in vari momenti precisi della giornata se si può fare due tre volte non c'è problema per 10 15 20 minuti quindi sono delle tecniche di respirazione specifiche è una tecnica tra l'altro abbastanza avanzata e molto completa una volta che si incomincia a studiare la respirazione si nota che questa tecnica è molto completa è già una tecnica tra virgolette avanzata per chi pratica prana yama e è una tecnica che usa la respirazione yogica o la respirazione completa allora non andremo nei dettagli delle tecniche però giusto per dirvi la respirazione yogica o la respirazione completa è una respirazione in tre fasi che incomincia a livello della pancia sale a livello intercostale fino al petto e quindi che utilizza una dilatazione polmonare dei polmoni completa un volume di della ventilazione della respirazione molto ampio quindi questa è la pratica della respirazione nella tecnica wim off la tecnica wim off il protocollo prevede dei cicli di respirazione e ogni ciclo è composto da una serie di respirazioni in genere si dice circa 30 respirazioni 3 4 cicli alla fine di queste respirazioni che sono assimilabili a un'iperventilazione controllata si fanno delle apnee coi polmoni semi vuoti dico semi perché è dopo ispirazione ma non con polmoni totalmente vuoti e alla fine si fa una fase di recupero con i polmoni pieni per circa 15 secondi quindi questo è circa per spiegarvi la respirazione wim off quindi è una tecnica che si usa per circa 15 20 minuti per certe volte 2 3 durante il giorno una dipende da come volete allenarvi e l'obiettivo di questa tecnica è specifico è quello di agire sul sistema nervoso autonomo allora il sistema nervoso autonomo quello che vuole fare la tecnica wim off è principalmente equilibrarlo quindi secondo i ritmi con cui questa tecnica è applicata perché si vede con vari ritmi più rapida o più lenta con il naso con la bocca l'obiettivo è quello di equilibrare il sistema nervoso autonomo per avere un'azione corretta dei meccanismi fisiologici come il sistema immunitario nervoso autonomo come la coerenza cardiaca come l'energia eccetera quindi alla fine si fanno anche delle delle fasi di meditazione perché siamo in una fase in cui in uno stato in cui il sistema nervoso autonomo è equilibrato quindi questo è l'obiettivo arrivato il sole scusate questo è l'obiettivo del metodo della tecnica di respirazione wim off si può praticare o con il naso che è consigliato o con la bocca essendo un esercizio specifico in un tempo ridotto si può fare anche per anche con la bocca anche se è meglio imparare a respirare col naso per i vari motivi che ci sono non entriamo nei dettagli ma è sempre la respirazione più efficace tranne nei momenti in cui abbiamo bisogno di aumentare la ventilazione a tal punto in cui il naso non è più sufficiente o nei momenti o le tecniche per cui dobbiamo aumentare talmente la velocità che con il naso sarebbe difficile la respirazione wim off ha una fase di iperventilazione controllata in cui effettivamente si la ventilazione è più del necessario in cui si aumenta un po l'ossigenazione nel sangue un po di più nei tessuti si riduce molto l'anidride carbonica e quindi si parla di una fase di ipo capnia termine un po scientifico ma in cui l'anidride carbonica è ridotta nel sangue il corpo sangue diventa alcalino e poi si fa un'apnea fase in cui si va in ipossia in cui alla fine della di questa apnea si va in una fase di ipossia in cui l'ossigeno è ridotto e ipercapnia in cui l'anidride carbonica è riaumentata ma meno di quanto si fa nelle apne normali quindi respirazione wim off ora confrontiamola con la respirazione oxygen advantage allora non non è molto corretto dire respirazione oxygen advantage o respirazione buteco perché questi sono più che altro dei metodi dei programmi di respirazione dove ci sono varie tecniche di respirazione però ci sono dei principi comuni tra buteco oxygen advantage in tutte le loro respirazioni la prima è che si respira solo con il naso e perché perché intanto perché l'organo principale della respirazione il naso la respirazione la più efficace fatta con il naso ci sono varie ragioni che non abbiamo il tempo di vedere nella spiegazione ma preconizzano quindi la respirazione nasale anche perché il background se volete dell'oxygen advantage di buteco deriva da dall'aspetto medicale dall'aspetto in cui i dottori cercavano di trovare delle soluzioni a dei disfunzionamenti respiratori spesso di una respirazione superficiale fatta con la bocca che manteneva i soggetti in uno stato di alcalosi respiratoria costante quindi loro dicevano prima cosa passata una respirazione con il naso riducete la frequenza respiratoria e regolate questo problema quindi prima cosa respirazione strettamente con il naso nell'oxygen advantage e nel buteco seconda cosa è un concetto che sembra opposto alla respirazione wim off e è quella di ridurre la respirazione quindi se la respirazione wim off ha una fase in cui le respirazioni sono complete la respirazione completa yogica ha dei volumi respiratori fino a una respirazione 5 litri che è enorme nella respirazione oxigen advantage e buteco si preconizza una respirazione che ha dei volumi ridotti non superficiale la respirazione resta profonda ma dei volumi ridotti e più equilibrate rispetto al fabbisogno metabolico del corpo quindi richiede una buona osservazione dei meccanismi fisiologici del corpo e delle vere necessità in ossigeno del corpo e quindi si parla di una tecnica per esempio che respirazione ridotta in cui si cerca di ridurre di una di un po la respirazione si fa sempre lenta sempre profonda ma si riduce il volume quindi si rallenta la respirazione in pratica quindi in un certo tempo si respira meno quindi è una delle tecniche dell'oxygen advantage è la respirazione ridotta questa respirazione ridotta fa lavorare in ipercapnia e leggermente in ipossia quindi ipercapnia cosa significa molta anidride carbonica quindi ci fa respirare in un modo in cui il corpo si ossigena meno di quello di cui avrebbe bisogno è un piccolo allenamento si parla di se avete un simetro pulsi ossimetro da dito si parla di una saturazione a 92 per cento o superiore non si scende quindi in una saturazione in percentuale dell'ossi emoglobina sotto il 92 per cento magari non avete sentito parlare della saturazione dell'ossigeno nel sangue però se avete un ossimetro è uno dei parametri che leggete direttamente quindi non bisogna calcolarlo è dato direttamente nel sangue e ipercapnia significa che il corpo è soggetto esposto a delle concentrazioni di anidride carbonica più alte che l'abitudine ipercapnia quindi questa è una tecnica l'altra tecnica dell'oxygen advantage è la l'apnea le apnea la simulazione dell'allenamento in altitudine che è molto interessante per gli sportivi e infatti l'oxygen advantage ha una parte di respirazione per gli sport per gli sportivi booteico restava più sulle respirazioni nell'ambito medicale quindi l'altra parte le simulazioni di altitudine lavorano molto con l'ipossia e l'ipossia è la stessa cosa che abbiamo visto col metodo wim off è una carenza di ossigeno che allena il corpo a abituarsi a degli stati di bassi livelli di ossigeno e si fanno apnea con i polmoni vuoti come si fa con con il metodo wim off c'è anche un po di ipercapnia perché alla differenza del metodo wim off tutti gli esercizi di oxygen advantage non si preparano con nessun tipo di respirazione quindi non si fanno respirazioni profonde prima dell'apnea non si fa come si fa nel mondo dell'apnea che ci si prepara si fa a freddo tra virgolette e quindi il corpo durante l'apnea va in ipossia ma anche in ipercapnia quindi si lavira si lavorano con i due aspetti quindi per quello che abbiamo visto fino adesso abbiamo l'ipossia che è presente nei due metodi e abbiamo l'ipercapnia che è più utilizzata nel metodo oxygen advantage e buteco e l'ipo capnia che è solo presente nel nel wim off e sono tutte le tecniche di ventilazione profonda e connessa che derivano dallo yoga molto dallo yoga indiano e dallo yoga tibetano ma non solo ci sono altre tecniche che utilizzano l'iperventilazione controllata per cambiare i stati mentali per esempio quindi se vediamo le differenze abbiamo uim off utilizza delle tecniche di respirazione precise che utilizzano anche una ventilazione aumentata controllata l'oxygen advantage non lo preconizza mai l'oxygen advantage è una tecnica di allenamento che mette il corpo in uno stato di tra virgolette stress fuori dalla zona di comfort soprattutto per allenarlo alla presenza dell'anidride carbonica e quindi dargli una resistenza a al fiato per esempio fare in modo tale che la persona perda il fiato meno invece wim off utilizza una respirazione che è molto più ampia quindi è molto importante anche per la salute del sistema respiratorio che aiuta a espandere i polmoni e la cassa toracica che la sviluppa quindi aumenta il volume di ogni respirazione ma non prevede mai una respirazione ridotta però prevede delle apnee e le apnee sono quei polmoni vuoti come l'oxygen advantage quindi questa è un'altra differenza il volume respiratorio nell'oxygen advantage è sempre ridotto nel wim off è sempre importante un'altra cosa che è importante da sottolineare è l'utilizzo delle tecniche l'oxygen advantage è principalmente una tecnica sono tecniche di respirazione che principalmente si utilizzano per allenarsi per allenarsi o riprogrammare dico tra virgolette migliorare la nostra respirazione quotidiana per poi avere una performance una respirazione migliore durante lo sport durante esercizi fisici ma durante la tutta la giornata quindi ci sono certi esercizi che sono esercizi di allenamento che aiutano la respirazione a riprogrammarsi l'oxygen advantage e sono esercizi di durata corta 5 minuti massimo 10 minuti che quindi aiutano la respirazione a ritrovare una base normale naturale che magari è stata persa perché il soggetto respirava in modo scorretto quindi questi sono esercizi per riprogrammare rieducare la respirazione per tutte le persone tra virgolette normale oppure per gli sportivi per mettersi in uno stato di svantaggio quando fanno questi esercizi in modo tale che quando poi respirano in modo normale la loro respirazione sia avvantaggiata si trovino in una facilità di respirazione nel movimento movimento ovviamente è il momento in cui abbiamo delle domande metaboliche di ossigeno più alte in cui produciamo più ossido più anidride carbonica e quindi in cui se siamo pronti e siamo preparati a gestire questi squilibri dei gas rispetto alla normale siamo più efficaci e la respirazione quindi più efficace invece wim hof utilizza delle tecniche specifiche che agiscono più sul sistema nervoso autonomo più sul sistema nervoso centrale più sul sistema cardiovascolare più sul sistema respiratorio ma non sono previste in sé e per sé per riprogrammare la respirazione anche se in realtà il fatto di respirare tutti i giorni 15 20 minuti già fa ci aiuta avere una consapevolezza durante la giornata della nostra respirazione ci aiuta a ossigenarci meglio ci aiuta a riequilibrare e riprogrammare la respirazione riducendone per esempio la frequenza aumentando nella profondità e quindi spingendo la respirazione verso uno stato più ottimale anche se la respirazione wim hof non ha come obiettivo quella di semplicemente riprogrammare la respirazione stessa altri obiettivi che sono quelli di agire sui sistemi autonomi nel corpo è una tecnica molto più avanzata non sono esercizi di allenamento è una tecnica che agisce sul corpo e sulla mente quindi questo è importante capirlo e poi un'altra cosa della tecnica wim hof è che ha un volume respiratorio elevato quindi ha una capacità di ossigenare il corpo durante l'esercizio fisico elevatissima e quindi può essere utilizzata utilizzata per esempio in momenti in cui la richiesta metabolica del corpo di ossigeno è alta per esempio durante lo sport quindi è una tecnica da sprint da performance che si può usare per un certo tempo quindi queste sono sono un po il paragone le differenze quali sono le le complementarità tra le due tecniche la prima è che una tecnica ci aiuta nell'allenamento l'oxygen advantage but eco e l'altra ci aiuta durante la competizione durante lo sport e quindi wim hof quindi le due fanno parte integrante di una respirazione che ci si allena e poi si usa nel momento in cui si deve utilizzare quindi per esempio il fatto di fare delle respirazioni profonde ampie e connesse è un'ottima cosa durante lo sport quando i muscoli utilizzano un livello molto più alto di ossigeno rispetto a quando siamo seduti quindi questa è la prima cosa la seconda è che entrambe lavorano sulla respirazione in modo cosciente e consapevole quindi ci aiutano a ritrovare una consapevolezza della nostra respirazione durante il giorno piano 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 siamo più consapevoli della nostra respirazione la osserviamo di più durante il giorno cerchiamo di renderla più fluida più profonda se entriamo in una respirazione disequilibrata ce ne accorgiamo in modo più facile perché ogni giorno lavoriamo con la respirazione con gli esercizi di respirazione e inoltre lavorando con la respirazione apre aprono delle porte a investigare altre tecniche comprendere meccanismi fisiologici e scientifici che sono dietro la respirazione eccetera quindi entrambe lavorano su una respirazione consapevole rispetto a una respirazione inconscia o autonoma che è quella che abbiamo durante tutto il giorno quando pensiamo altre cose quando dormiamo eccetera e un'altra cosa che è importante del fatto che siano complementari queste due tecniche è che utilizzano estremi opposti dello spettro respiratorio con cosa intendo intendo che la respirazione oxygen advantage per esempio utilizza delle respirazioni ridotte in termini di volumi magari molto lente con delle apnee che vanno in ipossia ipercapnia e la wim off utilizza dei volumi molto ampi magari dei ritmi più rapidi e delle apnee che vanno in ipossia ma anche delle respirazioni che ci portano in ipocapnia termini un po complessi ma per dire che andiamo nei due spettri opposti con l'anidride carbonica nei due livelli opposti dello spettro per quanto riguarda l'ossigeno per quanto riguarda il ritmo per quanto riguarda il volume che sono poi i parametri principali della respirazione che descrivevo nel masterclass di respirazione che ho fatto per ora solo in francese e nell'ebook che ho scritto e che sono estremamente importanti quindi lavorano con tutti gli estremi dello spettro della respirazione e questo nelle varie pratiche dello yoga della respirazione e tradizionali della respirazione è sempre stato conosciuto che con la respirazione si deve lavorare su tutti gli ambiti e non su uno solo un'ultima cosa sia Wim Hof che Oxygen Advantage e Buteico hanno utilizzato la scienza per studiare la fisiologia della respirazione e quindi che entrambe cercano di spiegare come queste tecniche di respirazione agiscano sul corpo con obiettivi leggermente diversi perché vi dicevo Oxygen Advantage e Buteico è più sulla fisiologia pura della respirazione ossigeno, idride carbonica, effetto Bohr, sangue alcalino, ossigenazione dei tessuti eccetera Wim Hof è più sul sistema nervoso autonomo, sugli stati di coscienza modificati, le onde cerebrali, il sistema immunitario, il sistema cardiovascolare eccetera quindi questo è per darvi uno spettro completo di analisi di questi due elementi di respirazione i libri sono qui, Oxygen Advantage che in italiano penso che si chiama Il potere del respiro se non mi sbaglio di Patrick McEwen, il libro sulla respirazione Wim Hof non esiste però c'è il libro sul metodo Wim Hof e se vi interessa sul mio sito internet Inspire Potential ho scritto vari articoli che sono tradotti in italiano sulla scienza e la fisiologia della respirazione Wim Hof, quindi specifici solo alla respirazione Wim Hof della tecnica di base ma mi sembra di aver scritto anche su altre tecniche per esempio la tecnica ibrida, la tecnica dell'energia, la tecnica antinfiammatoria eccetera perché nel metodo Wim Hof ci sono varie tecniche di respirazione, quella base che è la più conosciuta quelle più avanzate che conoscono gli istruttori o quelli che hanno fatto dei corsi avanzati e quindi come si utilizzano queste due per esempio insieme nella vita di tutti i giorni? Allora per esempio io quello che preconizzo è quando faccio la respirazione Wim Hof la faccio per esempio respirando con il naso invece che con la bocca è una prima cosa, unisce i consigli dell'Oxygen Advantage sulla respirazione nasale con una tecnica di respirazione Wim Hof che si può fare benissimo con il naso le apnee ovviamente ci sono già alla fine della respirazione Wim Hof faccio 3-5 minuti di respirazione molto lenta molto profonda, ridotta, come preconizza l'esercizio di respirazione ridotta dell'Oxygen Advantage e a volte faccio degli esercizi fisici in apnea, per esempio dopo le respirazioni Wim Hof come i piegamenti in apnea, che è un esercizio che esiste nel metodo Wim Hof come preconizza l'Oxygen Advantage nei esercizi di simulazione d'altitudine quindi questo è un esempio, ma altre cose possono essere per esempio quando fate la vostra tecnica Wim Hof, concentrate su Wim Hof ma durante il giorno, a un momento dato, vi prendete 3-5 minuti per fare una respirazione lenta, profonda, come una respirazione ridotta dell'Oxygen Advantage quindi magari con dei volumi più piccoli della respirazione normale è sempre consigliato farlo lontano dai pasti e altre volte quando vi allenate, per esempio, potete allenarvi facendo della corsa solo respirando con il naso oppure facendo degli esercizi in apnea per simulare l'altitudine, eccetera quindi potete semplicemente nella vostra vita di tutti i giorni combinare le due, avere i benefici delle due tecniche semplicemente facendo queste tecniche in momenti diversi della giornata e le due si completano e vedrete che aggiungeranno qualcosa alla vostra pratica che se ora magari è solo Wim Hof aggiungete Oxygen Advantage o se è solo Oxygen Advantage aggiungete Wim Hof e vedrete che si completano molto bene questi approcci di allenamento e di pratica della respirazione ovviamente ci sono altre tecniche che sono importanti che derivano dallo yoga, che derivano da altre pratiche dell'apnea, eccetera e era l'obiettivo del Master Class di respirazione che ho fatto ma se le conoscete le potete integrare a ogni momento, non c'è nessun problema quindi questo è per darvi un po' un'idea degli elementi di differenza e analogia con le due tecniche di respirazione da un punto di vista scientifico, se andate sul sito Wim Hof trovate degli studi che spiegano un po' come la scienza del metodo Wim Hof abbia spiegato la respirazione, per esempio in alcuni studi e anche su Oxygen Advantage trovate degli articoli scientifici se vi interessa studiare un po' di più la fisiologia della respirazione io vi consiglio di andare sul mio sito, Inspire Potential nella sezione articoli ho scritto almeno 5 articoli sulla respirazione Wim Hof e Oxygen Advantage, forse anche di più e qui sono specifici alla respirazione e alla fisiologia alcuni sono semplici, altri sono più complessi però vi danno degli elementi poi ovviamente dipende dal vostro background magari ne sapete anche di più di quello che ho scritto nell'articolo quindi potete magari completarlo potete commentare e inviarmi degli elementi in più che possono essere aggiunti quindi Oxygen Advantage riassunto è riduzione della respirazione ci si allena alla resistenza alla tolleranza all'anidride carbonica sono tecniche di respirazione per riprogrammare la respirazione è un allenamento Wim Hof sono tecniche per avere una respirazione più profonda e più ampia è una tecnica specifica per agire sui sistemi autonomi del corpo e la fisiologia è un buon esercizio per mantenere la salute dei polmoni e per sviluppare il volume dei polmoni e della cassa toracica è piuttosto una tecnica con degli obiettivi specifici per quando si fa o per fare una performance legata alla respirazione come può essere nello sport quindi questi sono gli elementi più importanti penso per questo webinar come vi dicevo 25 minuti sufficiente per parlarne ovviamente sono andato veloce ho parlato veloce dell'ipercapnia, l'ipossia sono termini un po' specifici però negli articoli sul mio sito lo spiego quindi se vi interessa potete leggerveli con calma quello che vi propongo ora è di poter fare una di rispondere alle vostre domande per quello che abbiamo visto una decina di minuti così se avete dei dubbi su come praticare una tecnica o un'altra o non vi tornano alcuni elementi delle mie spiegazioni possiamo vederle insieme per una decina di minuti e poi alla fine se abbiamo ancora tempo vi spiego ancora due cose quindi quello che vi consiglio di fare è se avete una domanda pronta attivate il microfono e me la dite così è più semplice se no nel frattempo potete scriverla e poi me la inviate così rispondo con calma qua nella chat conversare quindi vi lascio un po' di tempo per scrivere le domande oppure se l'avete già per attivare il vostro microfono e possiamo discuterne insieme di questi elementi della respirazione allora prima domanda che arriva allora pensi che farà dei corsi via zoom sia su Wim Hof che su Oxygen Advantage o è impossibile avere una corretta formazione online e serve essere in presenza per insegnare allora allora grazie della domanda in effetti in Francia ho già fatto i corsi durante la fase in cui eravamo obbligati a stare a casa corsi online sia su Wim Hof sia su Oxygen Advantage in italiano ho fatto dei corsi Wim Hof che una quarantina di persone hanno seguito in cui ci occupiamo principalmente della respirazione sono le tre tecniche principali del metodo Wim Hof respirazione di base respirazione libera da energia e respirazione anti-infiammazione ma non ho fatto corsi sull'Oxygen Advantage e visto che siete stati molti a chiedermeli la settimana prossima ho deciso di fare un corso online solo sull'Oxygen Advantage così puoi completare gli esercizi che proponevo online Wim Hof con esercizi puri dell'Oxygen Advantage Buteco quindi la settimana prossima il corso è giovedì 9 luglio dalle 7 alle 9 di sera sarà registrato due ore solo esercizi Oxygen Advantage e Buteco quindi per imparare le tecniche della respirazione ridotta per fare uno screening un monitoring della nostra efficienza respiratoria per imparare gli esercizi di simulazione in altitudine per imparare i protocolli da fare prima delle gare eccetera quindi due ore ci concentreremo solo sull'Oxygen Advantage e è accessibile tutti questi esercizi di respirazione sono accessibili per dei corsi online perché non sono particolarmente difficili ovviamente è sempre meglio essere insieme per farli però già si può fare benissimo facendoli online l'esperienza che ho avuto durante questi mesi in cui eravamo a casa seguendo, vi dicevo, con Wim Hof almeno una cinquantina di persone e Oxygen Advantage solo in francese era un gruppetto di 10 che ho seguito su 3 settimane era un altro tipo di lavoro e qua lo facciamo per il corso italiano sarà due ore giovedì prossimo allora, avevo un'altra domanda dimmi se ti ho risposto o ma si mancavano delle cose non esitate allora i due libri allora, questo è il vecchio libro di Wim Hof Becoming the Iceman è uno dei primi libri ma penso che non sia tradotto in italiano quello che è tradotto in italiano è The Way of the Iceman penso che sia l'altro quindi La Forza nel Freddo forse è il titolo in italiano comunque è scritto con un altro autore è un po' meglio quindi in ogni caso lo trovate è l'unico libro tradotto di Wim Hof in italiano ne uscirà un altro a ottobre di Wim Hof io ne ricevo uno come istruttore tra poco lo leggerò e vi dirò cosa ne penso così vi dirò se è più interessante o è meglio l'altro e questo è il libro di Oxygen Advantage di Patrick McEwan questo esiste in italiano Il potere del respiro se non mi sbaglio io ce li ho in inglese Allora poi un'altra domanda era Ah quindi Leopoldo mi chiedeva se non posso partecipare al corso della settimana prossima lo registro e ve lo invio quindi potete partecipare poi dopo e se avete domande me le scrivete e sarò disponibile per rispondervi perché se avete partecipato al corso mi fa piacere seguirvi Allora poi Lorenzo chiedeva Con la stagione estiva il conseguente caldo è meglio fare la respirazione Wim Hof nelle ore più fresche Allora come dire la respirazione Wim Hof è una respirazione che potrebbe rinfrescarci se la facciamo in un certo modo perché aumentiamo la ventilazione c'è uno scambio termico quindi alcune persone facendo la respirazione Wim Hof in modo lento e profondo si raffreddano d'inverno quindi d'estate ci potrebbe rinfrescare Quello che consiglio io la cosa più importante quando fate la respirazione fate come potete è avere dell'aria fresca non fresca come temperatura ma dell'aria che viene dall'esterno quindi se la fate a casa aprite le finestre quindi ovviamente è meglio farla al mattino se è più fresco per voi e poi un'altra cosa essenziale se potete è farla all'aria aperta quello non c'è non c'è meglio però se siete in città come per esempio io sono a Parigi fate quello che potete è meglio farlo al mattino c'è meno inquinamento di solito eccetera però ovviamente la cosa migliore è poter praticare la respirazione in un ambiente naturale per il fresco il caldo guarda secondo me se non ti disturba non ci sono problemi io preferisco al mattino quando è fresco e calmo allora per esempio prima di un'attività fisica mi chiedono la respirazione Wim Hof da molti più benefici per esempio corsa o bici allora un'ottima domanda la respirazione Wim Hof può essere utilizzata come una preparazione di un'attività fisica da un lato per ossigenare i muscoli e i tessuti e dall'altro per prepararci mentalmente quindi è un'ottima attività assolutamente da un altro lato la respirazione Oxygen Advantage esistono dei protocolli detti pre-gara questi protocolli pre-gara senza entrare nei dettagli oggi ma lo spiegherò al corso la settimana prossima se vi interessa attivano in ipossia dei meccanismi di adattamento in cui il corpo produce più globuli rossi passando per un fattore che si chiama un fattore di ipossia indotto che producono dell'eritropoietina che sintetizza più globuli rossi quindi la curva di trasporto dell'ossigeno aumenta e quindi sia più efficace poi nello sport però ci sono dei tempi precisi da rispettare quindi questo esiste è un protocollo Oxygen Advantage che esiste per essere più efficaci poi nella gara però si può usare anche nell'allenamento prima dell'allenamento allora Caterina dice sto facendo la respirazione di base Wim Hof da due mesi ma non conosco Oxygen Advantage mi iscriverò al corso ma mi piacerebbe vedere una breve dimostrazione pratica allora bene tanto che ti iscrivi al corso mi fa piacere ci vediamo la settimana prossima per la per la dimostrazione pratica l'Oxygen Advantage sono tecniche molto meno glamour e spettacolari rispetto alla respirazione Wim Hof in cui si fanno respirazioni ampi apnee sono tecniche in cui la bocca è chiusa quindi già si vede poco si respira con il naso e una delle tecniche della respirazione ridotta si può anche chiamare respirazione segreta perché in realtà la persona quando respira non si potrebbe dire non si potrebbe vedere quindi per esempio se la faccio sarei così sembro immobile sembra che non sto facendo niente perché è una respirazione lenta e impercettibile poi ovviamente si utilizza ci sono delle tecniche nella respirazione ridotta per farla meglio che utilizzano certi ritmi per esempio facendolo su un certo ritmo preciso che permette di entrare in coerenza cardiaca e con il diafragma quindi delle respirazioni principalmente a livello del basso ventre è semplice però è difficile perché bisogna adattare il volume di ogni respirazione significa che invece che respirare in modo casuale a ogni istante si cerca di osservare la respirazione per adattarla al bisogno metabolico quindi questa è una tecnica un'altra tecnica della respirazione Oxygen Advantage è quella di simulazione dell'altitudine e lì chiaramente si fanno delle apnee quindi non si respira e fa parte del protocollo di simulazione altitudine altre tecniche sono per esempio tecniche per sbloccare il naso se il naso è bloccato allora lì si fanno delle piccole apnee si fanno dei movimenti con la testa quindi sono tutte cose piccolissime altre utilizzano lo scotch per esempio per la bocca per la respirazione durante la notte per ridurre l'apnea durante il sonno o per esempio per chi russa quindi sono sono piccoli esercizi però molto efficaci che ci spingono un po' fuori della zona di comfort però in modo diverso rispetto a Wim Hof quindi alla fine si sentiranno le mani più calde si sentirà il cuore che magari aumenta a battere perché stiamo riducendo l'ossigenazione e poi si utilizzano degli ossimetri se vi farò vedere però se li avete potete già provare a vedere come cambia il vostro battito del cuore durante la respirazione come cambia la saturazione dell'ossigeno eccetera ah c'è Roberto la forza nel freddo ok grazie Roberto un esperto del metodo Wim Hof Roberto ha fatto vari corsi con me ciao Roberto allora Oscar dice da due mesi ho cominciato con la respirazione Wim Hof respirando con la bocca come fa lui raggiungendo buoni risultati respirando con il naso molto scarso allora Wim respira respira anche con il naso quando fa la sua tecnica è più di recente che per far vedere che sta respirando in modo profondo utilizza la bocca in realtà quando è incominciata a fare la respirazione e faceva tutti i suoi record respirava principalmente con il naso e out con la bocca quindi ispirazione nasale ispirazione bocca che è una cosa che nel metodo Wim Hof potete fare senza problemi quando si passa bocca a bocca ovviamente la ventilazione è aumentata quindi si riduce l'ossido e la nitride carbonica e quindi le apnee saranno più facili è per quello che mi parli di risultati in realtà per un attimo quando passerete dalla bocca al naso ovviamente ci sarà una fase in cui sembrerà meno efficace ma se la respirazione si fa con il giusto ritmo con la giusta profondità e ci si prepara prima con i giusti esercizi si può fare ancora meglio respirando solo con il naso ovviamente è una questione di pratica io stesso ho incominciato con il naso con la bocca scusa come te Oscar con ottimi risultati e poi dopo più di un anno forse un anno e mezzo ho visto che i risultati stavano scendendo e questo è legato alla tolleranza dell'anidride carbonica a quel punto lì ho letto questo libro ho integrato le due pratiche e il mio corpo si è riabituato alla tolleranza dell'anidride carbonica che si lavora col metodo Oxygen Advantage e respirando con il naso nella tecnica Wim Hof ho riaumentato i tempi delle apnee fino a più di 3 minuti ma non è non è una cosa importante in sé il tempo delle apnee è un indicatore è vero che potrebbe essere interessante ma dipende da vari fattori quindi capisco la tua domanda consiglio con il naso perché la respirazione la migliore respirazione che tu possa fare per varie ragioni per l'ossido nitrico che è prodotto per l'ossigenazione dei tessuti per rifiltrare l'aria umidificarla riscaldarla e con il naso e poi ci sono anche spiegazioni da un punto di vista energetico che ci sono nel Paranayama dicendo che la cavità nasale è una delle zone del corpo che assorbono l'energia poi questo può essere interessante o meno per voi però io vi consiglio fortemente di respirare con il naso allora questo Michael si è registrato e sarà disponibile ve lo invio allora Alessandro mi chiede per l'esposizione al freddo ma non abbiamo parlato di freddo allora per esempio bagno lago ghiacciato consigliavi una respirazione Wim Hof questo perché con la respirazione Wim Hof mi raffredda allora è ottimo perché la respirazione Wim Hof si può fare in vari modi e in un certo modo che è quello lento in cui si va più nel sistema simpatico ci si raffredda quella non è la preparazione ideale prima di un bagno di ghiaccio ora qui non vi spiegherò l'esposizione al freddo ma la preparazione per un'esposizione al freddo è un'altra non si fa solo la tecnica Wim Hof di base si fanno altre cose in effetti ovviamente se vuoi fare la respirazione di base Wim Hof magari puoi aspettare 10-15 minuti e fare gli esercizi fisici prima di fare il freddo che è quello che facevo io prima di conoscere gli esercizi prima di diventare istruttore quindi non devi farlo subito se ti raffreddi non devi farlo subito dopo allora ho in programma i corsi Wim Hof in Italia sì è una situazione un po' complicata dovevo fare devo fare non so ancora se riuscirò a farlo il corso a Milano il 26 luglio che è posticipato da marzo ma è complicato perché con le palestre in Italia ci sono protocolli un po' difficili ovviamente bisogna rispettarli perché la situazione coronavirus è quella che è per evitare che sia pericoloso fare dei corsi eccetera quindi le palestre hanno misure un po' strette quindi non so se riuscirò a fare quel corso il 26 luglio faccio un corso nelle Alpi di 6 giorni non avanzato però del metodo Wim Hof ma è pieno 15 persone e poi farò un corso il 2 agosto allora se vi interessa il 2 agosto faccio un corso in Toscana è un corso basi e avanzato insieme in un fiume che è freddo lo farò al mattino faccio Wim Hof e il pomeriggio faccio Oxygen Advantage quindi se vi interessa li ho messi sulla piattaforma sulla piattaforma Wim Hof e credo anche sul mio sito Inspire Potential e è l'unico corso che per ora faccio nell'estate poi invece a fine autunno rincomincio con i miei corsi tipici di 3 giorni nell'Appennino quelli sono corsi in cui si vede Wim Hof e Oxygen Advantage per 3 giorni insieme e dal 22 al 25 ottobre restano ancora dei posti perché mancano ancora vari mesi però non tanti perché limiterò il corso a 20 persone e quel corso lì è il corso più completo che esiste in Italia sul metodo Wim Hof e sull'Oxygen Advantage perché sono 3 giorni full immersion nell'Appennino tosco-emiliano a Prato Spilla lo trovate sul mio sito Inspire Potential se volete ve lo invio il link allora durante l'aspirazione Wim Hof di base viene il mal di testa qual è il motivo? allora non c'è allora non escludo che possa avvenire però non è una cosa ricercata o normale bisogna fare attenzione a non forzare con il naso allora quando si vuole respirare con il naso effettivamente non bisogna avere una frizione nelle vie respiratorie bisogna cercare di avere una dilatazione delle vie respiratorie più ampia possibile per evitare la frizione il mal di testa potrebbe venire dalla frizione nella respirazione se si forza quindi questa è una cosa che mi viene in mente Roberto poi magari ci sono altre cose che potrebbero essere legate a altri elementi però così sarebbe difficile dovrei vedere come mai ti è avvenuta però davvero attenzione a non fare quest'errore di chiudere le vie respiratorie quando si vuole ispirare ma di fare una dilatazione delle vie respiratorie alcune persone utilizzano un vasodilatatore per essere sicuri di avere il naso le narici aperte gli sportivi lo utilizzano allora bene i toscani sono interessati al corso quindi il 2 agosto è agli stretti di Giaredo di Giaredo le gole di Giaredo è un fiume freddo dove si fa del canyoning faremo respirazione freddo corso il mattino Wim Hof pomeriggio oxigeno advantage allora Fabio mi dice che sei iscritto ma non so se riuscirò ad esserci per motivi di ferie va bene allora vediamo vediamo come potrei fare mi farai sapere non c'è problema se non potrai venire verrai un'altra volta allora io direi che con le domande siamo buoni non ce ne sono più con i tempi ci siamo quindi vi lascerei liberi se non ci sono altre domande mi ha fatto piacere scambiare con voi su questo argomento allora il corso è registrato ve lo invio non esitate a condividerlo con le altre persone mi fa solo piacere e per quelli che vogliono partecipare al corso Oxygen Advantage la settimana prossima è il 9 luglio dalle 7 alle 9 lo registro dovete iscrivervi e per quelli che sanno iscritti a un corso con me mi farà piacere vedervi presto non so dove ma o in Toscana o nelle montagne e ci vediamo per un'altra sessione magari respirazione Wim Hof durante l'estate come facevamo durante il periodo del confinamento del covid non mi sono dimenticato niente penso di avervi detto tutto grazie grazie a tutti ciao ciao buona serata ci vediamo presto buona estate buone cose e buona respirazione soprattutto ciao grazie grazie a tutti grazie a tutti